Non possiamo certo dire che Alien Romulus sia una sorpresa, perché un po' ce l'aspettavamo che fosse un buon film, e questo sin dalle prime notizie, le prime immagini e il primo trailer, in un cammino di consapevolezza che si andava via via a comporre. Possiamo tuttavia dire da amanti della saga inaugurata nel 1979 da Ridley Scott che è stato una gioia e un nuovo punto di partenza da cui iniziare il cammino verso un futuro che può essere ricco e interessante. Certo, incassi permettendo, si intende, perché oggi è sempre quella l'incognita con cui tutti devono scontrarsi, e anche quando la qualità c'è, proprio come in questo caso. Ad ogni modo, l'intuizione di Fede Alvarez, qui regista e sceneggiatore con la collaborazione di Rodo Sago e Sebuona, non ci stupisce neppure che abbia convinto sin da subito Scott a produrre il film. Si torna quindi indietro, andandosi a collocare con coraggio e ambizione tra i primi due capitoli della saga, quelli di Ridley Scott e James Cameron, per intenderci, costruendo qui non un classico sequel, bensì un cosiddetto midquel, ovvero una storia che va a riempire un buco, uno spazio narrativo lasciato vuoto da altri capitoli di una storia già scritta. E non lo fa qui solo a livello cronologico, ma di fatto lo fa anche a livello di impostazione del racconto e le scelte tematiche. Alvarez ci riporta quindi laddove tutto è iniziato, nello spazio profondo, su una stazione spaziale abbandonata che un gruppo di giovani colonizzatori decide di esplorare alla ricerca di risorse per inseguire il proprio sogno di staccarsi dagli obblighi contrattuali verso la multinazionale che dà loro lavoro. Ed è un sogno questo che però diventa incubo quando iniziano a trovare indizi di quanto è accaduto sulla Romulus, tra equipaggio decimato e i soliti interessi aziendali da perseguire, e si trovano così faccia a faccia con quella forma di vita perfetta e letale che abbiamo imparato a conoscere e temere dai film precedenti. E proprio come nel 1979, Alvarez qui mette un personaggio femminile al centro dell'azione, ma non va a cercare la sovrapposizione diretta con quello che ha rappresentato già la replay di Sigourney Weaver. Del resto non avrebbe neanche avuto senso, perché il contesto in cui la storia ci viene raccontata, quello del mondo che ci circonda, è ben diverso da quello degli anni in cui il primo film arrivava nelle sale. La reincarra da Indy Kaylee Spaney è infatti un personaggio che va ad occupare una posizione differente sia in quanto a fascia d'età che estrazione sociale e gerarchia nell'economia del gruppo in cui si muove, ma è comunque ugualmente forte e determinata e arriva per vie diverse ad ottenere anche lo stesso solido confronto con l'alieno. Ed è una scelta questa che funziona sia per costruzione narrativa che per la prova della giovane interprete, che il pubblico sta tra l'altro imparando pian piano ad apprezzare in ruoli diversi tra loro nel corso di questa primavera estate. Da Priscilla al servizio di Sofia Coppola alla Civil War di Garland e ora qui in Alien. E sono tre ruoli questi in cui Kaylee ha gettato le basi di un futuro che si prospetta a dir poco radioso. E se il cast e i personaggi convincono al netto anche di un ritorno che non vi anticipiamo ma che avremmo sinceramente evitato, è soprattutto il lavoro di Alvarez alla regia ad averci convinti. Il riferimento diretto sul piano narrativo è infatti il primo Alien di Ridley Scott qui in veste di convinto produttore. Ma è anche evidente quanto il regista ami e apprezzi la saga, e soprattutto quanto l'abbia studiata per ammiccare anche i capitoli successivi al primo. C'è infatti qualcosa del sequel capolavoro di Cameron, ci sono intuizioni che vengono dal terzo film di Fincher e di riflesso anche dal quarto bistrattato da molti Alien alla clonazione. E, dolcesi in fondo, c'è persino la consapevolezza di quanto è avvenuto in seguito. La sua regia è solida al servizio del racconto e della tensione, ma senza rinunciare a mettere in campo delle idee visive interessanti che supportano la storia senza rubare la scena. È regia cinematografica nel senso più puro e vero del termine, quindi un qualcosa che di rado capita di vedere in produzioni di questa portata, in cui si cerca di non colorare fuori dai margini imposti dalla produzione senza rischiare sbavature. Sarà dunque per personalità importante o magari per la sicurezza di avere Scott a supportarlo sul fronte produttivo, ma comunque qui Alvarez osa e soprattutto convince nel costruire il miglior film di Alien dopo i due capolavori che avevano inaugurato la saga. E tra l'altro non è un caso che si vada a mettere proprio lì in mezzo dal punto di vista narrativo e cronologico, così come a voler rivendicare un posto che gli spetta di diritto. E voi invece che cosa ne pensate? Vi è piaciuto Alien Romulus? Fatecelo sapere nei commenti! Grazie a tutti!